Il nuovo look di Arisa con i capelli lunghi, biondo scuro o mora? Nuovo look 2018 per Arisa. Arisa nuovo look, biondo scuro o mora? Rosalba Pippa sfoggia fiere nuovo look con i capelli lunghi. Altro look, ennesimo successo con il nuovo look per la cantante genovese. Abbandona il taglio rasato Arisa? Spicca il look con i capelli lunghi. Con il nuovo look accentua la sua spiccata personalità. Il gossip di oggi vede al centro dellattenzione proprio il nuovo look. La cantante ha cambiato il look ai capelli nuovamente. Limmagine di Arisa è cambiata, i fan della cantante prendono bene il suo nuovo cambiamento. Il nuovo look piace a tutti, ma il particolare non sfugge. Arisa nuovo look per lanno nuovo? Rosalba Pippa ha voluto condividere con i suoi numerosi fan uno scatto che la mostra con il nuovo look. La particolarità però è sotto gli occhi di tutti. Dalle foto pubblicate dalla cantante sul suo profilo ufficiale Instagram, abbiamo notato che oltre ai capelli lunghi, tra laltro bellissimi, cresciuti abbastanza in fretta, nel giro di 15 giorni, si nota che, tra una foto e laltra, che l'artista cambia anche il colore dei capelli e passa da mora a biondo scuro. Sarà per il look 2018? Cosa ne sarà del taglio rasato? La domanda sorge spontanea, saranno extension?. Le extension capelli mori, o biondo cenere, hanno comunque suscitato numerosi commenti dei follower che sembrano aver apprezzato davvero tanto il nuovo look dell'artista italiana. Extension, o no, la cantante genovese piace ai fan, oltre che per le sue canzoni, il suo timbro di voce, Arisa piace anche grazie ai suoi cambiamenti con gli improvvisi cambi di look. Anno nuovo, look anche, il 2018 bussa la porta della cantante aperta ai cambiamenti. Grazie per la visione!